Ecco, io vorrei dire tantissime altre cose, però mi sembra opportuno in questo momento passare la parola intanto a Maria Pia, ma allo stesso tempo però vorrei invitare anche Bruno che non si può esimere dal raggiungerci. Grazie a tutti, grazie di essere venuti, noi stiamo qui per preparare alcuni eventi tra i quali il primo sarà quello di Alberto Liguoro, un nostro scrittore, poeta e adesso anche commediografo, con il quale siamo preparati all'estimento anche di una sua commedia a Roma per la fine di ottobre con Maria Pia Ciacchi e altri amici. Maria Pia Ciacchi è un caso a parte, perché è una donna combattiva, ma nel senso positivo dei termini, che non riesce praticamente a stare senza mettere in campo tutta la sua energia e la sua energia la mette in campo attraverso l'editoria, attraverso il giornale e il magazine Eutonna e attraverso una serie di eventi che organizza in Italia, non solo, ma anche in altre parti, come spai, eccetera. Noi abbiamo un bel periodo, questo qui ci sta portando a creare un gruppo nel quale ciascuno abbia una sua identità e nel nostro stesso tempo lavori per il gruppo, per il gruppo intendiamo un gruppo di artisti, di amanti della cultura e della socialità. Io ci ho parlato tanto, passo la parola dopo, in modo che posso in qualche modo far capire qual è la valenza di queste proposte che abbiamo a presentarli molto in volta. Grazie. Grazie a tutti perché appunto riesci sempre con le simbolizzazioni e poi degli incontri, penso che praticamente la vita sia l'incontri che noi facciamo e questo è, credo che sia il valore del personaggio e tra i vari incontri c'è stato quello con la bibliotecaria Lucia Micelli che grazie a tutti abbiamo potuto apprezzare sia per il lavoro come scrittrice, come ricercatrice dei documenti e anche come bibliotecaria. Io sostengo, mi sento sempre con una collega di ricerci amanti che la biblioteca è un libro, e questo l'ho sostenuto anche la mamma dal secondo congresso del libro, e lo prenderemo avanti anche a Roma. La biblioteca norma è che ci siamo nel conto che la maggior parte del lavoro di bibliotecale, che è un lavoro di inizio e di ricerca metipoloso, no? E' esplicito, e' diciamo fatto per la maggior parte anche nei presi spagnoli del libro. Quindi questa sinergia si sta creando in questi trattori tra due pubblici caratteri che io ritengo che portino avanti in maniera detta, in maniera di compassione in questo lavoro forse è particolarmente interessante. Poi il C, il C e il C e il C e il Mac che avremo potuto incontrare nei prossimi giorni. Alberto e il Mur è stato un altro incontro, sempre creato, diciamo, dal nostro logista Bruno, che organizza tra una città e l'altra questi scambi costurari, che ho potuto conoscere attraverso aperte scritte che l'ho già detto, soprattutto in una sua dimensione meno nota che è quella della commedia teatrale. Alberto Riburo, appunto, ha scritto questo test, diciamo così, che vuole essere una commedia ironica, una rotesca, una rotesca, sulla vita. E non so se è accretto a noi, dal Cino di Colombo, quello, quel qualcosa di che. Visto che è appunto tutto l'intervista di noi, vorrei lasciare la messa. Passo la parola su quest'anno. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie.